Il mio nome è Frida Hansen, io parlo un pochino italiano e cerco di spiegare in italiano quello che facciamo noi. Ecco, questo è PoliTouch, un sistema interattivo per negozi che aiuta alla vendita. Allora, per esempio, se io sono un venditore di fashion o di moda, posso avere un sistema del genere nel mio negozio e far vedere al mio pubblico quello che vendo. Per esempio, se mi interessa una certa cosa, posso vedere se in questo caso sta nel negozio oppure no. Posso anche chiedere ai miei amici se questo che ho scelto è la cosa giusta o no. Allora, questo è solo un esempio di tanti che noi facciamo su questa macchina PoliTouch che noi vendiamo come hardware, ma ci sono i nostri partner che fanno diverse applicazioni, specialmente per retail. Hi, this is Tim Huckabee from Innernology e Actis Interactive Software. Today, I'm demoing our interactive digital content system on the PoliTouch devices. This is the content that we use for the W Hotel and the Four Seasons Hotel and many hotel chains worldwide. It simply displays content, any type of content. This is pictures, videos, but it can also have web-based content. This particular device runs in Atlanta, Georgia, in the U.S. So, it's got everything about Atlanta here, including Georgia Aquarium, Centennial Park, where the Olympics are. The differentiator, when it runs on PoliTouch, is if I am a member of the W Hotel, it can recognize me either through NFC or through my loyalty card and give me custom content. So, technically, as I get nearer to the hotel, the system recognizes that I'm there and I can be auto-checked in, I can get my hotel reservation done, I can get my coupon, all in an automatic way. It's pretty compelling. We're at next generation of hospitality type stuff.